In corso a Milano i due cortei di colore opposto legati all'anniversario della morte di Sergio Ramelli c'è tensione la questura ha blindato le zone interessate con 700 agenti nel pomeriggio alla cerimonia presso i giardini intitolati al giovane militante di destra ucciso nel 75 è intervenuto anche il sindaco Pisapia è ora di lavorare per la pacificazione ha detto. Varato il rimpasto in giunta regionale gli assessori restano 14 ma raddoppiano i sottosegretari da 2 a 4 accontentate le richieste del nuovo centrodestra parolini al commercio e cavalli alle infrastrutture con del tenno retrocesso da assessore a sottosegretario le opposizioni sono dure soprattutto i grillini dal 15 maggio saranno in vendita i biglietti per Expo 2015 39 euro il costo massimo ma sono previste agevolazioni per categorie protette e famiglie gli organizzatori puntano a tagliare il traguardo dei 6 milioni di tagliandi venduti entro l'estate accordo con sé a per una galleria d'arte a malpensa sarà la porta d'ingresso a Expo 2015 il primo maggio è la piazza binomio inscindibile quest'anno sono previsti i cortei dei maggiori sindacati e la May Day Parade la manifestazione alternativa che cambia però volto non più una sfilata incentrata sui disagi del precariato ma un jacuzzi a Expo e uno spazio dedicato ai movimenti che osteggiano le grandi opere buonasera bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN l'abbiamo visto nei nostri titoli in primo piano c'è la tensione che si respira a Milano un'aria abbastanza pesante perché oggi il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha partecipato questo pomeriggio per la prima volta alla posa della corona al ricordo di Sergio Ramelli un tentativo di stemperare le tensioni prima dei due cortei di destra e antifascisti che sono in corso in questi minuti a Milano sentiamo Massimo Scarinzi ha voluto partecipare per la prima volta alla commemorazione per Sergio Ramelli il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha preso parte alla posa della corona per il 18enne ucciso barbaramente da un commando di avanguardia operaia fu aggredito il 13 marzo del 1975 morì dopo oltre un mese di coma il 29 aprile basta con la violenza ribadito il sindaco che ha voluto dare un segnale di pacificazione ricordando il giovane militante del movimento sociale italiano bisogna arrivare alla pacificazione bisogna far sì che fatti simili non accadano mai più c'è scritto sulla lapide e direi che quello che c'è scritto vale molto di più delle parole un gesto di distensione quello del sindaco in una Milano che si prepara a vivere ore caldissime pochi minuti fa è partito da piazzale susa il corteo che ogni anno ricorda ramelli pedenovi e borsani un appuntamento tradizionale della destra milanese italiana una manifestazione sempre al centro delle polemiche per la presenza di numerose celtiche quest'anno vietate dalla questura dall'altra parte in risposta all'iniziativa di varie componenti della sinistra milanese tra cui anche ampi e cgl con un corteo che è partito sempre alle 19 la piazza oberna e terminano a impiazzare il sorgimento in piazza soprattutto comitati notav e centri sociali che hanno scritto una lettera aperta al sindaco di Milano Giuliano Pisafia forze dell'ordine mobilitate sono oltre 500 gli agenti in campo tra polizia e carabinieri per garantire che tutto si svolga senza problemi di ordine pubblico cambiamo decisamente argomento parliamo dell'ex premier Silvio Berlusconi perché le dichiarazioni le sue dichiarazioni sull'affidamento in prova ai servizi sociali rese lunedì nell'intervista andata in onda sulla 7 nel programma piazza pulita sono al vaglio del tribunale di sorveglianza di Milano che lo scorso 15 aprile gli ha concesso la misura alternativa alla detenzione domiciliare al momento Berlusconi per le sue dichiarazioni sui servizi sociali più che la revoca dell'affidamento e la conseguente detenzione domiciliare potrebbe rischiare come prevedono le normative una diffida in sostanza potrebbe essere convocato dall'assistente sociale dell'ufficio esecuzione penale per essere ammonito e invitato a comportarsi in modo consono alle prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza e ancora Berlusconi perché dalla pubblicazione della telefonata tra l'ex segretario di S Piero Fassino e l'ex presidente di Unipol Giovanni Consorte Silvio Berlusconi ha tratto vantaggio nella lotta politica lo scrive la Corte d'Appello di Milano motivando così la sentenza con cui ha dichiarato la prescrizione del reato per l'ex premier il fratello Paolo. Nelle 20 pagine di motivazione il giudice estensore Alberto Puccinelli nel confutare quanto ha sostenuto la difesa ha sottolineato che benché non ci sia stato un interesse di ordine patrimoniale presumere un interesse di tipo diverso commisurato al vantaggio acquisito nella lotta politica non appare in contraddizione con l'accusa contestata. Per la vicenda ricordiamo che il leader di Forza Italia il 7 marzo del 2013 era stato condannato a un anno di carcere il fratello Paolo a due anni e tre mesi poi lo scorso 31 marzo la Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione ma ha riconosciuto la responsabilità penale dei due fratelli Berlusconi confermando il risarcimento da 80 mila euro all'attuale sindaco di Torino. Il mini rimpasto della giunta regionale si è concluso con un numero uguale di assessori, 14 ma con il raddoppio dei sottosegretari che passano da 2 a 4 spostamenti necessari a dare risposte alle pressioni del nuovo centrodestra, critiche le opposizioni che parlano di scena da vecchia politica. Stefano Fumagalli ha raccolto le voci per noi. Il mini rimpasto di giunta o riassestamento come preferiscono chiamarlo i componenti della maggioranza si chiude senza stravolgimenti due le poltrone di sottosegretario in più per far posto a Deltenno forzista che lascia la carica di assessore al collega di partito Alberto Cavalli che siederà al tavolo dell'esecutivo con Mauro Parolini del nuovo centrodestra per commercio e turismo e l'NCD prende anche un posto con Daniele Nava, neo sottosegretario agli enti locali che completerà la squadra di 4 assieme al già citato Deltenno a Fabrizio Sala per Forza Italia con deleghe a Expo e Ugo Parolo leghista con delega ai territori montani quindi ho due sottosegretari in più e un consigliere delegato in meno concluderà oggi il governatore Roberto Maroni riferendo a Dario Galli che ha rinunciato al posto per candidarsi alle elezioni europee un rimescolamento che dà risposte alle pressioni degli ultimi tempi da parte dell'NCD che chiedeva maggiore rappresentanza e che in maggioranza pare non aver creato scossoni troppo violenti critiche però arrivano dalle opposizioni con Alfieri che parla di vecchia politica e di lotta di poltrone che prevale sui bisogni dei cittadini il presidente del consiglio dell'NCD stempera le incomprensioni io non sono favorevole a questa deriva per cui ogni gesto di democrazia sembra diventato un gesto improprio che una coalizione ponga il problema della rappresentanza proporzionale delle sue componenti negli organi elettivi e negli organi di governo mi sembra un fatto fisiologico in un organismo democratico che anche in Lombardia si è compiuto con le modalità proprie di qualunque governo di destra, di sinistra, di centro, di sotto, di sopra critico il 5 Stelle che parla di mercato di poltrone senza un occhio alle competenze l'opzione migliore sarebbe stata una scelta fatta sulle reali competenze curriculum, si chiede il curriculum in giro c'è esigenza di un assessore per le infrastrutture? si fa, si chiede curriculum in giro si chiamano persone competenti senza pensare, perché è quello che è stato fatto a equilibri politici oggi il consiglio regionale della Lombardia avete visto si è riunito anche per approfondire i temi del lavoro e dell'occupazione in particolare si è dibattuto dell'impugnativa del governo sulla cosiddetta legge impresa Lombardia sulla quale il presidente Maroni ha detto l'impugnativa del governo è assolutamente infondata l'obiettivo è cercare un'intesa con il governo romano lo scandisce bene Maroni dopo che è arrivato lo stop alla legge impresa Lombardia tutela del made in Lombardia intesa sì, ma con una resistenza senza mezzi termini aggiunge il governatore perché quell'impugnativa, secondo il leghista non avrebbe ragion d'essere la difesa dei prodotti Lombardia si fa slogan con tanto di striscione prodotti made in Lombardia sventolato dai banchi leghisti e rimosso poco dopo dai commessi la certezza però è che il tema del lavoro è una vera priorità anche nell'operosa Lombardia che il tempo stringe e che i cittadini hanno bisogno di politiche di contrasto alla crisi il più presto possibile Angelo Ciocca è il presidente della commissione attività produttive l'artefice della colorita protesta è logico che il governo non deve frenare questa voglia di osare della regione Lombardia questa genialità di regione Lombardia purtroppo spesso viene frenata ahimè con l'impugnativa del governo centrale tre delle criticità che stanno emergendo con forza dentro la crisi una è legata ai giovani una alle donne una all'over 50 quindi come gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato un apposito ordine del giorno e preannunceremo domani il deposito di una proposta di legge relativa a sostegno al reddito per gli over 50 quindi chiediamo che sia un consiglio dove alla fine si decidano delle cose Per la dote unica lavoro lo strumento lanciato nel 2013 da regione Lombardia per favorire il ricollocamento dei disoccupati sono in arrivo altri 20 milioni di euro che insieme ai precedenti stanziamenti portano a 73 milioni le risorse messe a disposizione dalla regione lo ha annunciato l'assessore Lombardo al lavoro Valentina Aprea è intervenuta appunto nella seduta di cui parlava anche Fumagalli nel servizio nel Consiglio regionale e in apertura di questa seduta al 23 aprile 2014 sono state assegnate 23.845 doti ha spiegato la Prea aggiungendo che è stato ricollocato quindi avviato al lavoro il 64% delle persone prese in carico dopo sei mesi restiamo sul lavoro un'altra notizia legata a questo settore in questo settore una fonderia sotto sequestro perché dopo un grave infortunio a un lavoratore i titolari non hanno ancora adempiuto alle prescrizioni imposte per legge così l'azienda di Gallarate nel Varesotto è ferma e una trentina di lavoratori ora rischiano il posto è stata la procura di Busto Arsizio a disporre il sequestro della fabbrica perché dopo l'infortunio i carabinieri del nucleo dell'ispettorato del lavoro di Varese Milano avevano contestato la violazione di numerose norme di sicurezza nonostante le prescrizioni ad adeguare la fonderia a queste norme l'attività è proseguita e sono quindi scattati i sigilli il sequestro è stato convalidato già dal GIP il 27 marzo un operaio di origine turca aveva subito delle gravi ustioni su tutto il corpo ed è tuttora in gravi condizioni l'Expo adesso perché dal prossimo 15 maggio partirà la vendita dei biglietti d'ingresso al sito espositivo il prezzo medio sarà di 22 euro gratis i bambini sotto i 4 anni e i disabili tutto pronto per l'inizio della vendita dei biglietti per l'esposizione universale in questi giorni è partita la distribuzione dei tagliandi tra negozi web e tour operator dal prossimo 15 maggio si potrà acquistare il ticket per entrare a Ropero dal 1 maggio al 31 ottobre del 2015 in media costeranno 22 euro ma il prezzo potrà arrivare fino a un massimo di 39 euro per le giornate clou con picchi di presenza prezzi differenti in base alle giornate quindi con agevolazione per gli studenti le scuole in gita pagheranno solamente 10 euro a persona la società Expo 2015 SPA sta limando gli ultimi dettagli le famiglie avranno diritto a sconti consistenti tariffe ridotte per gli orari serali riduzioni per chi entrerà nel sito espositivo per più di una giornata per i bambini sotto i 4 anni i disabili e i loro accompagnatori il ticket sarà gratuito l'obiettivo è vendere una quota consistente degli ingressi prima del taglio del nastro del primo maggio e spalmare l'arrivo dei turisti il più possibile nell'arco dei sei mesi sul ticket ci sarà la mascotte dell'evento Fudi incapace per il momento di scaldare il cuore dei milanesi oggi intanto è stato firmato l'accordo tra il museo del 900 e SEA dal 15 maggio al 31 agosto i passeggeri attraverseranno a Malpensa la Porta di Milano spazio espositivo tra l'ingresso del terminal e la stazione ferroviaria la prima opera che i turisti potranno apprezzare già dalle prossime settimane è l'idea del Cavaliere realizzata da Marino Marini tutti coloro che arriveranno all'aeroporto di Malpensa soprattutto nel semestre di Expo avranno la percezione che Milano è una straordinaria città d'arte e cultura una città che è sempre stata straordinariamente fertile per il pensiero creativo che ha ospitato artisti importantissimi soprattutto nel 900 e questo è il segno un primo segno di incontro anche spiazzante se vogliamo con la città di Milano domani sera in piazza Gaia Olenti partirà il countdown per Expo 365 giorni esatti all'inaugurazione un conto alla rovescia che sarà celebrato con un concerto di Andrea Bocelli e dell'orchestra Rai dopo domani 1 maggio un primo maggio ancora di protesta per gli antagonisti che scenderanno in piazza con il corteo della May Day Parade in manifestazione ci saranno anche No Tav e No Expo in mattinata il corteo dei sindacati confederali celebrerà invece la festa dei lavoratori in origine era la festa dei precari la May Day Parade corteo alternativo del primo maggio proprio in occasione della festa dei lavoratori un evento che per anni ha ricordato a tutti la piaga del precariato che chiedeva alla politica soluzioni negli anni si è trasformato in un corteo antagonista dove spiccano No Tav, No Expo, No Canal e movimenti di protesta vari quest'anno la manifestazione partirà alle 15 da piazza 24 maggio e chiamerà raccolta soprattutto studenti delle scuole superiori e delle università che contestano l'esposizione universale la costruzione di infrastrutture e in generale la galassia antagonista come di consueto musica, carri e balli per le strade di Milano una May Day Parade che farà da contraltare alla manifestazione ufficiale quella dei sindacati confederali che partirà da palestro e terminerà in piazza Scala più lavoro, più solidarietà, più Europa questo lo slogan che accompagnerà il corteo dalle 9.30 ci sarà spazio anche per eventi culturali e musicali alle 16 al Teatro del Fopuccini i sindacati offriranno lo spettacolo Golio e Toki Isole della Libertà con Elio De Capitani e Renato Sarti e anche Milano avrà il suo concerto sicuramente in tono minore rispetto al concertone romano di piazza San Giovanni ma sicuramente interessante alla Varone in via Zumbini ci saranno 14 band che proporranno un viaggio attraverso rock e pop venerdì sera invece al teatrino del Parco Trotter lo spettacolo Chi non lavora non tratto dai racconti di Hans Fallad Palazzo Marino vuole celebrare la festa dei lavoratori con un calendario ricco di appuntamenti ha spiegato l'assessore Tagliani con un occhio di riguardo alla precarietà e ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro Lavoratori che stanno vivendo un periodo delicato un momento difficile sono sicuramente quelli di SEA Handling potrebbe contare 300 esuberi il piano dell'azienda in vista della ristrutturazione e della nascita della nuova società Airport Handling una discontinuità economica richiesta da Bruxelles oggi il presidente di SEA Pietro Modiano ha parlato di negoziati costruttivi ma anche della preoccupazione per la volontà del governo di dare maggiore attenzione a Linate liberalizzando alcune tratte Si parla di esuberi incentivi scivoli alla pensione di un complessivo riassesto dell'azienda il maxipiano che investe SEA Handling potrebbe portare secondo le prime ipotesi ad almeno 300 esuberi incentivati non confermati dal presidente di SEA Pietro Modiano in risposta alle richieste di Bruxelles per evitare la maximulta da 452 milioni entro luglio la società dovrà trasformarsi in Airport Handling e degli attuali 2.300 lavoratori addetti a tutti i servizi di terra ne rimarrebbero 1.700 altri 300 invece sarebbero spostati in SEA SPA con mansioni di sicurezza oggi affidate alle forze dell'ordine i sindacati stanno lavorando su una bozza di accordo che preveda un massimo di 32 mensilità una tantum un'indenità di disoccupazione fino a tre anni e un integrativo alla stessa che porterebbe la cifra all'80% dell'ultimo stipendio il tutto per un costo complessivo dell'operazione che si aggirerebbe sui 25 milioni di euro ma con garanzie che soddisferebbero le parti sociali Modiano però non parla di numeri è cominciato in modo costruttivo fissando un'agenda molto densa di incontri il negoziato con le organizzazioni sindacali che porterà alla definizione del progetto che darà vita dal primo di luglio in termini operativi ad Airport Handling che sostituirà nelle condizioni di discontinuità pretese della Commissione Europea sia in giro i 300 esuberi gli accordi i numeri sono oggetto tutti di grande attenzione attenta valutazione da parte di tutti le preoccupazioni di SEA però riguardano anche i possibili equilibri economici che il governo vorrebbe portare avanti in vista di Expo con il decreto Linate a spostare voli sull'aeroporto cittadino sono preoccupato ma soprattutto molto attento a capire i contenuti degli eventuali progetti che oggi non conosco l'amministratore delegato del Torchio mi ha comunicato che Etihad ha mandato la lettera dall'Italia in cui ha risposto alle osservazioni della compagnia italiana lo ha detto il ministro dei trasporti Maurizio Lupi a margine del centenario di EICMA la fiera del motociclo in questo momento credo che Alitalia stia valutando i contenuti della proposta di Etihad l'amministratore delegato presenterà ad azionisti, stakeholders e al governo lo stato della trattativa che sta avanzando quindi vedremo finalmente i contenuti ha proseguito il ministro crediamo che l'alleanza tra Etihad e Alitalia sia buona per rilanciare il trasporto aereo in Italia e la nostra compagnia di bandiera Milano, sua città natale a cui è rimasto legato per tutta la vita ricorderà la figura di Sandro Lopopolo iscrivendo il suo nome al cimitero monumentale accanto a personaggi che hanno dato lustro alla nostra città lo hanno annunciato gli assessori del comune di Milano Chiara Visconti assessore allo sport e Franco D'Alfonso servizi civici nel giorno in cui si sono celebrati a balanzate i funerali del pugile milanese scomparso lo scorso 26 aprile in accordo con la famiglia e con il presidente del CONI Lombardia l'ex azzurro del basket Pierluigi Marzorati l'amministrazione ha previsto che le ceneri del pugile vengano tumulate nell'edicola F del cimitero monumentale luogo che conserva la memoria di personaggi che hanno onorato la città il comune inoltre ha deciso di farsi carico delle spese e dei funerali per i due assessori lo popolo è stato un milanese che per anni ci ha emozionato e ha rappresentato con onore Milano e l'Italia nel mondo collezionando numerose vittorie fino all'argento olimpico opere di Boccioni Carrà Bellini Bramante Piero della Francesca solo per citarne alcune sono 22 le opere d'arte della Pinacoteca di Brera che sabato e domenica prossima avranno dei ciceroni speciali saranno infatti 103 i giovani studenti dei licei milanesi che nel weekend si offriranno come guide volontari e visitatori per approfondimenti su alcune delle opere selezionate dalle diverse collezioni della Pinacoteca l'iniziativa è realizzata in collaborazione con il liceo Setti Carraro dalla Chiesa chiudiamo con dando conto di quanto è successo a Piazza Affari oggi Piazza Affari che ha chiuso in forte rialzo la seduta di questo martedì il Fuzzimiba ha registrato un più 2,15% come vedete ha sfiorato i 22.000 punti 21.976 acquisti su Fiat più 3,29% o sulle attese del piano con il possibile scorporo dell'Alfa e su Mediaset anche lei più 3,29% positive anche le altre piazze europee da Francoforte a Parigi fino ad arrivare a Londra per quanto riguarda i titoli di Stato in leggero rialzo lo spread tra il BTP e il Bund il differenziale lo vedete di 164 punti il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,15% vediamo adesso quali sono gli appuntamenti per questa sera sugli schermi di Telenova dopo di noi andrà in onda la nuova stadio sprint con in conduzione Luciano Rindone per parlare di calcio Tohir oggi ha parlato e parecchio e alle 20.45 invece la politica con Adriana Santa Croce che condurrà appunto linea d'ombra bene questa edizione del TGN invece termina qui l'augurio per tutti voi da parte mia è quello di una buona serata davvero arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.